Sulla cronica mancanza dell'acqua in diversi rioni di Lentini il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Antonio Pino ha presentato una diffida al sindaco di Lentini e per conoscenza anche al prefetto di Siracusa. Il perdurare della mancata erogazione dell'acqua in molte zone della città, ivi compresi gli uffici lentinesi, sede della delegazione di Fratelli d'Italia, scrive Antonio Pino, sta causando enormi disagi alla cittadinanza. Questa condizione dura ormai da oltre un mese e tale perdurante situazione sta già costituendo un gravissimo inconveniente igienico-sanitario che, permanento sicuramente, provocherà ulteriori enormi danni alla popolazione, anche in funzione della mancata attuazione per l'assenza di acqua delle direttive ministeriali per la lotta alla pandemia relative alla igienizzazione delle mani per evitare contagi. La cittadinanza lentinese di fatto è lasciata senza acqua per intere giornate, non potendo pertanto neanche contare sull'erogazione minima del servizio giornaliero di emergenza da parte del Comune. Da tale perdurante omissione sostiene ancora il coordinatore di Fratelli d'Italia, Antonio Pino. Discende una grave violazione delle leggi e normative sanitarie legate a rischi connessi dalla riduzione e interruzione del servizio idrico e senza previo avviso ai cittadini. Pertanto sostiene ancora Antonio Pino, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. Si diffide il sindaco a provvedere entro 15 giorni al ripristino di un corretto funzionamento dell'erogazione dell'acqua al consumo umano e di fornire alle famiglie interessate con autobotte e quant'altro l'approvvigionamento dell'acqua.